Quest'oggi si celebra la memoria di Santa Chiara. Sette anni dopo il gesto di San Francesco che si spogliò delle vesti, Chiara, figlia di una nobile e ricca famiglia, fugge da casa per raggiungere il santo alla Porziuncola, dove Francesco le fa tagliare i capelli e indussare il saio francescano. Si rifugierà poi nella chiesa di San Damiano, dove là fonda l'ordine femminile delle Clarisse, dove la povertà è il centro della loro regola di vita. In questi ultimi giorni abbiamo incontrato diversi santi, diverse figure di santi che vengono ricordati, dei quali si celebra la memoria o la festa. Ecco, per restare ancora sul tema della preghiera che abbiamo affrontato in questo tempo, direi che non possiamo dimenticarci di rivolgerci anche ai santi, di far entrare i santi nella nostra preghiera. Nel Banno di Vangelo di Gesù oggi ricorda ai suoi discepoli e a noi che c'è sempre il rischio dell'inferno. luogo dove non è tanto Dio a mandarci, ma dove siamo noi che ci infiliamo, poiché l'aldilà sarà semplicemente continuazione di ciò che abbiamo vissuto nell'aldiquà. Se siamo stati uomini e donne dal cuore duro e chiuso, non potremmo reggere al Paradiso, che è un luogo di apertura, di amore, di gioia, di accoglienza. Occorre allora allenare il nostro cuore al Paradiso. E come ricordavo qualche giorno fa, parlandovi della figura del Santo Curato d'Arsa e di San Giovanni Maria Vianney, lui stesso affermava che la preghiera serve proprio a dilattare il nostro cuore e che invece tende spesso a chiudersi nell'egoismo, in se stesso. E nella nostra preghiera è bene avere un momento anche per invocare i Santi, non nel senso della bestemmia naturalmente, ma nel senso di rivolgerci a loro. Perché? Perché i Santi sono tutti quegli uomini e quelle donne che sono morti, che ora sono in Paradiso e fanno il tifo per noi, perché anche noi possiamo giungere in Paradiso insieme a loro, ritrovarci insieme a loro. Tra loro ci sono sicuramente i nostri familiari, i defunti, i amici, persone che abbiamo conosciuto. Ci sono quelli più famosi, tipo San Francesco, Santa Chiara, perché la loro vita ha segnato la storia della Chiesa, ma c'è una miriade di gente che è in Paradiso senza che lo sappiamo. Impariamo loro a pregare i Santi, quelli che preferiamo, quelli del nostro nome di battesimo, qualche santo che per mille motivi sentiamo più vicino di noi e chiediamo loro di non perderci, di non smarire la strada che conduce al Paradiso. I Santi sono uomini e donne dal cuore aperto, dilattato, per questo è importante invocarli, per chiedere loro di avere anche a noi un cuore aperto. Possiamo anche rivolgerci ai Santi della nostra famiglia, non li conosceremo per nome, ma di certo ce ne sarà qualcuno. Li si possono invocare al mattino o in qualsiasi altro momento della giornata. L'importante è farlo, per ricordarci che abbiamo degli amici in cielo che fanno il tifo per noi. Buona giornata a tutti.